Buongiorno a tutti, vorrei augurare a tutti i amici un buon Natale, un Natale sereno in famiglia. Io credo che quest'anno è stato un anno veramente molto particolare, soprattutto chi ha lavorato tantissimo, offrendo il servizio, assicurandoci questa tranquillità della sanità, cioè i dottori, medici, infermieri, poi le persone della Croce Rossa o tanti altri, ma tantissime altre persone che ci hanno dato questa opportunità di avere una vita serena. Io credo la fotografia, la fotografia è molto interessante e quantomeno parlo per me, per me quando io penso la fotografia, cioè sempre mi viene in mente fai buona fotografia, maestro Gianni per sempre ha detto buona fotografia, che cos'è buona fotografia? Buona fotografia io credo, quantomeno parlo per me, qualcosa che io riesca a esprimere il mio sentimento, qualche immagine e che abbia un legame con il mio sentimento, con i miei pensieri. in effetti io credo, sto invecchiando, impecillendo, cioè dico tante bagianate, continuo a parlare, però in un certo senso mi tiene comunque, mi fa mantenere un certo tipo di equilibrio, io credo grazie, grazie anche fotografia, fotografia che mi dà opportunità di riflettere, cioè che cosa sto pensando, che cosa desidero esprimere. Ad esempio io se potessi fare un progetto in questo momento, desidero esprimere la mia gratitudine, gratitudine di coloro che stanno lavorando per noi. Mi piacerebbe, questo sarà ancora molto più difficile, esprimere, di cercare di condividere dolore e che i nostri amici o quelle persone che hanno sofferto e che non ce l'hanno fatta per, non solo di causa Covid, ma comunque tantissimi anche altri motivi, ma in particolare questo motivo che mi piacerebbe anche condividere anche questo dolore, cioè perché io credo di essere stato anche io responsabile di ciò. Io mi domando se ho fatto tutto di tutto, ma veramente ho fatto tutto, bene. Ognuno di noi non possiamo fare un granché, logicamente, però mettere insieme questa forza di fare meglio, credo aiuterà ad avere una società migliore, società anche in futuro. Io ormai ho fatto anche la mia vita, ma pensiamo ai nostri figli, pensiamo anche ai nostri nipoti e coloro che nasceranno ancora. Bene, fotografia, andiamo a fotografare quindi qualcosa che ci dà la gioia, ci fa riflettere, ci fa esprimere il nostro sentimento. Io credo è un'ottima occasione, adesso siamo tutti in una zona rossa e quindi non facciamo una grande festa, bene, ma festa si fa col cuore e quindi anche da solo si fa anche grande festa. Io credo avere la passione per la fotografia è una cosa bellissima, quindi ci aiuterà a mantenere questo umore, questo umore e questa allegria, questa serenità. Io spero che la fotografia vi porti e questa serenità, anche questo durante la festa di Natale, pensiamo se stessi, pensiamo anche tanti altri e io auguro veramente di cuore un buon Natale a tutti voi.